Una persona è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Piazza Armerina, nel tratto che attraversa la zona di Mazzarino. Due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 63. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone, un'ambulanza e anche un elicottero del 118, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i componenti del personale dell'ANAS per piazzare la segnaletica e deviare il traffico tra il chilometro 62 e il chilometro 64. Un incidente con conseguenze meno gravi si è registrato all'altezza della zona industriale di San Cataldo nella serata di giovedì. Due auto, una 500 e una Panda, si sono scontrate nei pressi dell'Airpub e quest'ultima vettura si è ribaltata con il conducente che ha riportato un trauma al viso, come accertato dai medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.